ok tutto a posto pensavo che era qualcosa di più serio beh portiamosi subito al secondo gioco dei 5 balance lotte che francamente l'ho provato questo dopo l'ho dovuto provare pesantemente in privato perché è un po uno di quei resi game ma non mi ricordo so che si può comparare un altro dopo nemo non mi viene che ma non mi viene un attimo il nome ma quasi quasi scusate non sarà un attimo l'account che uso di solito per provare questo me lo so creato di resente l'account per creare i doki tempo passa che io mi pento di non aver pagato l'online per l'anno prossimo ah ok mi ricordavo che stava un intro forse quando inizi livello precari da due minuti così è proprio da me alla fine dei conti ecco qua cavolo quanto è grande quella lumaca ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua Oh Dio, l'occhio è uscito dall'armatura Per quello che ha fatto Tiriamo un po' se riesco a concludere il livello Ahhhh Per fortuna sono schiantato vicino al checkpoint Au Come non detto Poi non lo so, perché sembra musica napoletana questa? Bleh Oh 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 Nooo Nooo Oh Ed ecco di nuovo alla patta napoletana della musica Oh Si 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 Vai 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 Checkpoint What? Nooo Ho mancato la stella Vabbè frega cazzi Nooo Oh Nooo Oh Ok, questo è ok. No! No! Che cavolo, è riuscito a fare uno buono e poi... non riesco più. Dai! Oh! No! 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 Aiuto, aiuto, aiuto! Oh! No! 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 Scusate! Cavolo, manco un papà si trova. Ma stiamo a scherzà. Ma questo ora non si trova più un cavolo. No, aspetta Grazie Ora, puoi tentativamente morire? No, il cavolo sta conchiglia O, è anche in university Non, non, non! Ah, no, non! C'è? no 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 oh no ok 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 checkpoint assia sì, no, 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 almeno sono arrivato a un buon punto, almeno spero, ho visto, no, ha capito, perchè se va, se va aiuto noooon Nooo, ma che se non ho riuscito! Noi si perché non stavo tenendo subito Brrr Eeeh 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 No 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 ma si proviamo anche secondo va anche se ho paura che non se la farò e ovviamente dovevo schiantarmi ho preso no è valido no non è valido 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 se lo facciamo a fare un 360 duro Oh Non posso saltare nei miei miei Ah Ma stavo a dire perchè di sedare Ma c'è un sassolino nei pantaloni Oh non so che posso andare indietro però mamma grazie nonononono se che non volto metrò d'altro ok, forse ne ho avuto l'attacco se posso fare l'attacco ok, ma non lo per l'attacco ero riuscito al primo test no, 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 no ma non proprio il primo no, 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 no vai, vai vai no no, 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 no dieci e a e e e e e poi passiamo al prossimo se lo vedo la mia sanità non si torna nonono Un'altra cosa? No 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 no, no 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 no. Che cavole sto a fare con quel pomodoro? No è una mera un pomodoro. Con quella doveva essere una mera più fotte del mondo. Cari, cari! Aaaaaaah! Chia! Attilue tentatività! Menni tu! Nooooooooooooooooooo! Nooo! Ultimo tentativo, che poi, passiamo a... C'è troncone, sperando che non mi faccia vestimeare come questo! ma che ho detto che l'ultimo dettivo quante livelli sono così 30 no allora sono 35 stelle però sono più stelle per ogni livello ma non non è nenne 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 no mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto abbiamo ancora 3 di Doki ancora 3 di Doki mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto